I grandi pescatori Bravissimi Guardate sono proprio dei maestri Come fate? Dobbiamo uscire qui Ma grandi Guardate che bravi Guardate Giustamente Salvatore Guardate che c'è una bravura Complimenti Guardate come sono veloce Che cos'è ragazzi Scusate l'esclamazione Ma proprio bravo Allora sembra facile Ma la cosa del genere Sfido chiunque Che sta guardando questo video A riuscire a farlo Guardate Ci sta pure Aspetta un attimo Aspetta un'attima C'è un'umano con un'area Grande lavoro